È scontro tra la Regione Veneto e il Ministero della Salute sulla presenza di perfluoro alchilici nelle acque potabili. Si tratta di sostanze chimiche usate per impermeabilizzanti molto diffusi, ad esempio per cerare i giacconi e per le padelle antiaderenti, per proteggere gli smartphone e per la carta da pizza. E proprio in Veneto, in provincia di Vicenza, ha sede una delle aziende leader del settore, la Miteni, da anni oggetto di attenzione anche da parte della Procura per l'inquinamento di acque e ambiente. Nella zona la tensione è molto alta dopo le analisi effettuate su ragazzi e ragazze di 14 anni, nel cui sangue sono stati rilevati da 70 a 300 nanogrammi per grammo di perfluoro alchilici. Nessuno finora ha indicato una soglia di pericolo per tali sostanze, ma i 126 dipendenti dell'azienda hanno scioperato, mentre il Governatore del Veneto ha prima chiesto l'intervento del Ministero della Salute e poi, di fronte alla risposta negativa del Ministero, che non ritiene necessario fissare un limite nazionale per la concentrazione di perfluoro alchilici nelle acque potabili, ha deciso di procedere autonomamente. Il Governo non vede la realtà, accusa Zaia. Noi abbiamo fatto e continuiamo a fare tutto ciò che va fatto per la tutela e la salubrità delle acque, risponde il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin. Questo rimpallo di responsabilità, aggiunge, non è una buona cosa, ma la prossima settimana la Giunta Veneta imporrà limiti che saranno, secondo le prime indiscrezioni, tra i più bassi d'Europa.